Benvenuti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2022-2023 dell'Università di Udine, il 45esimo della sua storia. Un ringraziamento a tutti voi che in presenza o in diretta streaming seguirete l'edetto. Entra il corteo accademico. Il prorettore Andrea Caffarelli, i delegati di area. Giorgio Alberti per l'internazionalizzazione. Monica Nese per la terza missione. Agostino Dovier per la didattica. Alessandro Trovarelli per la ricerca. I docenti rappresentanti gli otto dipartimenti dell'Ateneo. Dipartimento di lingua e letteratura, comunicazione, formazione e società. Renata Londero, Angelo Variano, Francesca Zanon. Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. Guido Nassimbeni, Nicola Baldo, Domenico Visintini. Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali. Marco Galeotti. Giuseppe Firrao. Lucilla Iacumin. Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e fisiche. Franco Parlamento, professore decano dell'Ateneo. Cristian Micheloni. Gianluca Foresti. Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale. Laura Pani. Emanuela Colombi. Simone Furlani. Dipartimento di area medica. Chiara Zujani. Carlo Puccillo. Alvisa Palese. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. Eugenio Comuzzi. Stefano Comino. Francesca Visintin. Dipartimento di Scienze Giuridiche. Claudio Cressati. Silvia Bolognini. Dimitri Girotto. I rappresentanti degli Atenei Ospiti. I rettori dell'Università di Nova Goriza, Bostian Golob. Di Trieste, Roberto Di Lenarda. Le rettrici dell'Università di Roma La Sapienza, Antonella Polimene e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Savina Nuti, seguiranno la cerimonia da remoto. Il direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Sissa di Trieste, Andrea Romanino. I prorettori dell'Università di Padova, Paolo Sambo, del Campus Biomedico di Roma, Laura De Gara. Di Trento, Paola Iamiceli. I delegati dei Rettori dell'Università di Bolzano, Stefano Cesco. Cafoscari Venezia, Andrea Stocchetti. Juav di Venezia, Angelo Maggi. Cooper Capodistria, Michael Mrissa. Di Teramo, Paola Pittia. Ritorniamo ai rappresentanti dell'Università di Udine. Il direttore della Scuola Superiore di Toppo Wasserman, Alberto Policriti. Il direttore del Centro Polifunzionale di Gorizia, Francesco Pitassio. Il direttore del Centro Polifunzionale di Pordenone, Angelo Montanari. Il coordinatore del Nucleo di Valutazione, Lorenzo Fedrizi. Il coordinatore del Presidio di Qualità, Paolo Ceccon. Il titolare della Cattedra Unesco, Stefano Grimaz. L'accademico dei Lincei, Michele Morgante. Le direttrici e i direttori degli otto dipartimenti dell'Ateneo. Lingue, letteratura e comunicazione, formazione e società, il vice direttore, Mauro Pascolini. Politecnico di Ingegneria e Architettura, Alessandro Gasparetto. Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, Edi Piazentier. Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, Pietro Corvaia. Studi Umanistici del Patrimonio Culturale, Linda Borean. Area Medica, Leonardo Alberto Secchi. Scienze Economiche e Statistiche, Marcellino Gaudenzi. Scienze Giuridiche, Elena D'Orlando. Il docente che terrà la Lectio Magistralis, Enrico Giovannini. Il docente che terrà la Prolusione, Daniele Morandi Bonacossi. Il magnifico Rettore, Roberto Pinton. Ora ci sarà l'introduzione musicale. L'orchestra dell'Università di Udine eseguirà di Arcangelo Corelli il largo del concerto grosso in Re Maggiore, opera 6, numero 1. di San italiano, c'è la federazione di Udine Grazie a tutti. 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 Esiste il futuro. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. Un caro saluto. Grazie a tutti. 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 Il presidente. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. E a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.